Un atto intimidatorio di metterci in regola che eravamo stati avvisati più volte, infatti noi abbiamo ricevuto tre atti intimidatori in questi anni, tra cui il penultimo che è stato un incendio abbastanza grosso e ha provocato molti danni. Avete avuto più di un avvertimento e non abbiamo avuto nessuna risposta? Dopo questa lettera, se non vi mettete a posto immediatamente, il locale verrà completamente distrutto, così come tutti i beni che vi appartengono. Mettetevi a posto. Poche righe ma con un chiaro intento intimidatorio. Questo è il testo della lettera recapitata a Lido Culbei di Gizzeria Lido, un'intimidazione che si aggiunge ad altri due avvenute in precedenza, l'ultima delle quali aveva portato a danni per 40.000 euro. Avevate già ricevuto delle richieste di tipo estorsivo perché questa frase mettetevi a posto è una fase emblematica. Di richieste estorsive no, però sono state minacce insomma con conseguenze dannose. E l'intimidazione al Culbei non è che l'ultima di una cordata di atti intimidatori di vario tipo a persone ed attività nel Lametino, un filo rosso citando il nome dell'ultima operazione di polizia che non si riesce ancora a recidere nonostante i ripetuti rastrellamenti negli ambienti criminali. E' triste come situazione, però voglio dire fortunatamente la mia società, io, siamo persone abbastanza testarde, abbiamo le spalle grosse e continueremo a andare avanti. Tiziana Bagnato per la CNews24.